Controordine bassanesi, Elena Pavan non fa parte del direttivo nazionale dell'Anci. Contrariamente a quanto reso pubblico dal municipio a novembre e da quanto confermato dal sindaco di Bassano in seguito, Pavan fa parte solo del consiglio nazionale dell'Associazione dei Comuni Italiani. Una differenza mica da poco che la nostra emittente aveva già evidenziato in più occasioni. Ecco il testo integrale del comunicato stampa emesso dal municipio di Bassano del Grappa per chiarire una volta per tutte questa situazione. In riferimento all'incarico ricoperto in Anci dal sindaco Elena Pavan si precisa che il primo cittadino è nel consiglio nazionale e non nel direttivo. Elena Pavan precisa non fa parte di me millantare titoli e crediti che non ho. Per un fraintendimento è stato utilizzato il termine direttivo anziché consiglio. Ho già dato mandato agli uffici di correggere questo termine errato e di sostituirlo con la dicitura corretta. Il sindaco continua, spiace per le polemiche politiche degli ultimi giorni scaturite da un errore di forma più che di sostanza. Spiace perché, come detto, la sostanza è che con la mia presenza in Anci, dice Pavan, Bassano siede ad uno dei tavoli più importanti a livello nazionale per le tematiche che riguardano i comuni e questo non può che essere un vanto per la città. Questo il comunicato. A questo punto però sorgono spontanee alcune domande. Ci chiediamo infatti perché si sia atteso tutti questi giorni per ammettere che c'era stato un errore. Sarebbe bastato che il sindaco avesse detto mi sono sbagliata il giorno in cui Rete Veneta ha chiesto per la prima volta chiarimenti su questo tema ed era il 9 gennaio scorso. La seconda domanda riguarda invece la determina con la quale è stato attivato un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato che ha portato l'ex sindaco di Pozzoleone già da scuccato nello staff del sindaco. Il provvedimento amministrativo sul quale si basa questo procedimento parla infatti di un supporto alle funzioni eccezionali per quanto attiene al ruolo del sindaco all'interno del direttivo nazionale Anci. Direttivo. Bene, chiediamo ora al sindaco Elena Pavan se questa determina abbia ancora valore o meno e cosa accadrebbe nel secondo caso. Speriamo di non dover aspettare un'altra settimana.